Il cane scappa, la padrona lo insegue e viene investita da un'auto. E' successo alle 11 di stamani in via Milano, a Trieste. Né la 77enne né l'amico Quattrozampe, fortunatamente sono in gravi condizioni. L'anziana era appena uscita da una toilettatura per animali che si trova all'incrocio con via Carducci. Il cane, in stato d'agitazione, si è liberato dal guinzaglio correndo sulla carreggiata. La donna, per fermarlo, si è chinata a margine del marciapiede ed è stata colpita di striscio alla testa da un'autovettura che sopraggiungeva. E' rimasto ferito anche il cane che poi è scappato in direzione di via Trento Ottobre, dove è stato fermato da alcuni passanti. La donna, visibilmente sanguinante ma cosciente, è stata trasferita in ambulanza all'ospedale di Cattinara, sul posto per i rilievi del caso, la polizia locale.